eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty con un nuovo contenuto bonus su fortnite come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 400 per il prossimo appuntamento giornaliero di news sul mondo di call of duty e passate a visitare il mio profilo di instagram per immagini divertenti aggiornamenti in tempo reale e notizie su call of duty partiamo da ieri 28 dicembre è stata attivata la nuova modalità a tempo esplosivi ad alto potenziale su fortnite nuova modalità perché a tempo perché è disponibile da ieri 28 dicembre fino al 2 di gennaio che cosa di speciale questa modalità le armi sono limitate unicamente a lancia palla di neve a lancia razzi e a tutte le granate le trappole sono disattivate mentre i normali consumabili sono ancora disponibili non dovrete fare nessun aggiornamento perché ve la ritroverete come nuova playlist all'interno del gioco passiamo invece a parlare di call of duty perché ieri sera la try arc ha annunciato il raggiungimento della sfida community avete capito bene i giocatori di call of duty black ops 3 hanno impiegato veramente pochissimo a completare la sfida che aveva introdotto la try arc su call of duty black ops 3 la sfida era 50 milioni di partite giocate appunto su call of duty black ops 3 quindi ieri sera è arrivata la notizia del completamento al 100 per cento nel caso in cui non aveste giocato in questi giorni a call of duty black ops 3 passate subito sul titolo perché così riceverete tutte le varie ricompense cinque lanci di rifornimenti rari perché è stato raggiunto al 25 per cento cinque lanci di rifornimenti rari perché è stato raggiunto il 50 per cento una cassetta quindi un sapri drop con armi corpo a corpo per il 75 per cento e dato che è stato completato anche il 100 per cento anche un sapri drop con armi al suo interno quindi passate su call of duty black ops 3 per riscattare tutte queste ricompense parliamo invece di quello che accadrà da oggi fino al 2 di gennaio ultimo weekend del tema natalizio su call of duty world war 2 non ci saranno casse gratuite quindi non ci saranno lanci di rifornimenti invernali gratuiti però ci saranno finalmente i doppi punti ci sarà il triple feed xp sulla modalità mosfet winter carentan 24 7 e poi ci saranno doppi punti doppi punti divisione doppi punti arma su team deathmatch dominio hardpoint uccisione confermata e gun game vediamo invece quali saranno i contratti e le sfide che potremo fare da oggi fino al 2 di gennaio contratti settimanali dovremo fare 250 kill su mappe invernali con la divisione airborne 250 uccisioni sempre su mappe invernali con la divisione infantry e stesso discorso sempre 250 su mappe invernali con la divisione del cecchino il mountain mentre come obiettivi giornalieri ci dovremo posizionare nella top 3 per tre volte nella modalità gun game dovremo ottenere una multi kill in gun game dovremo posizionarci sempre per tre volte nella top 3 di gun game ottenere una multi kill in gun game e via dicendo sono soltanto questi due come sfide giornaliere come contratte invece dovremo fare 55 kill in dominio in 60 minuti 55 kill in team deathmatch in 60 minuti e 70 kill in gun game in 60 minuti e per finire 45 kill in qualsiasi modalità 40 minuti 13 headshot in qualsiasi modalità sempre in 40 minuti e 75 kill in dominio in 60 minuti questo è tutto quello che accadrà da oggi venerdì 29 dicembre fino al 2 di gennaio quarto ed ultimo weekend natalizio all'interno di call of duty world war 2 qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate arriviamo come sempre a 400 mi piace per il prossimo video di aggiornamento e noi ci vediamo con tanti nuovi video